Tu ne hai bisogno Fa caldo, nella città mia fa caldo Con lei che balla caldo Tanto quanto Un forno caldo e caldo Ma me la canto e caldo Come il tuo impianto caldo Nella città mia fa caldo Caldo Fa caldo, nella città mia fa caldo Con lei che balla caldo Allora, avete visto l'inguadratura degli alberi? Stiamo per fare l'albero di Natale a Laurie nella zona Ma nonostante che sia un'aria natalizia A panghino frisco Con la cometa che non vedete ma c'è Torna a voi, un'altra puntata Eccoci qua, un saluto da Pino Carlomagno Amici, oggi Ho il piacere di ospitare Un'amica conosciuta a Laurie Ma da qualche tempo e tra poco capirete Perché conosciuto un po' dovunque Lei e Sabina Rossi, voi direte Passano ancora alberi di Natale Voi direte, chi è, chi non è Per chi non la conosce, per i pochi che non la conoscono Ma ci arriviamo Ci arriviamo a poco a poco Innanzitutto, grazie Sabina Per aver accettato l'invito Ci vuoi fare una tua breve scheda biografica? Allora, innanzitutto saluto tutti Sì, io abito a Lauria da sempre E lavoro al centro commerciale a Galdo E niente, con Pino ci conosciamo da tanti anni C'è da quando sono nato praticamente E niente Da quanto tempo lavori al centro commerciale? Da sempre, dall'inizio Da quando è stato aperto Praticamente ho contribuito anche all'allestimento iniziale Va bene questo centro commerciale Che all'inizio, non so C'era stata qualche critica Sappiamo qui adesso Senza rinvangare il passato Però mi pare che funzioni Vengono da parecchie parti della regione Proprio, è vero Sabina? Sì, sì, sì Il territorio è vasto Quindi comunque abbiamo una clientela abbastanza ampia Senti Sabina Hai dovuto sacrificare qualcosa Perché, vabbè, hai i turni di lavoro Però poi, tu sei mamma Come scrivevo su Facebook per l'episodio Che stiamo per raccontare Sei mamma e sei una nonna felice Hai dovuto sacrificare Sacrifica ancora qualcosa Per i tuoi Per il tuo carissimo e bellissimo nipotino Sì, i sacrifici sono stati tanti Sono più di undici anni che lavoro lì Però io sono molto contenta di lavorare lì Perché è un lavoro che a me piace tanto Mi piace stare a contatto con la gente Col pubblico Ho avuto tante soddisfazioni Sia da parte della proprietà Che da parte della clientela Manifestazioni di affetto Da parte di gente anche che ho conosciuto lì Soprattutto anche dalla gente di Gald E ho fatto amicizia con tutti Laura, ormai mi conoscono tutti E sono diventata di Gald Senti Sabina Si dice che i nonni sulle nonne Tu che nonna sei? Che tipo di nonna sei? Ossessiva? Così ansiosa? Preoccupata? Che ancora molla qualche cazzotto a tuo figlio e a tua nuora? Cazzotto schiaffettino? Se non si comportano bene No, 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 no Allora io sono molto ansiosa Però più con il mio nipote in effetti E me è normale Penso che tutti i nonni sono così A prescindere dall'età Perché l'età non conta E il sentimento è un altro E' normale che sono apprensiva Di più rispetto ai miei figli E' così E' una cosa spontanea In effetti Come si chiama il tuo nipote? Si chiama Daniel Speriamo che riuscirà a vedere A capire Vedendo la puntata su lucaniatv.it Che la nonna Senta intervistata Una nonna giovane Ti vuole bene naturalmente? E' tantissimo E' affezionatissimo Soprattutto a mio marito Di più Di più Senti Sabina Per usare un termine inglese Che ne capiamo Cuno fa vincere chioccusche? Tu o tuo marito? Mio marito Mio marito Non ne mitio E' più così Noi uomini siamo diversi Si 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 Lui è una cosa incredibile Infatti sono pappeciccia Dico io C'è una complicità nascosta Si 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 Tra di loro si Oh Sabina La conosciamo E veniamo alla cosa Alle domande un po' più Così Serie Diciamo così La conosciamo Per un episodio Molto bello Che le è capitato Senti Sabina Partiamo dall'ultimo Che Dal lato umano Che esperienza Hai tratto Da questa vicenda? Io ho capito Che innanzitutto Non bisogna giudicare nessuno Perché nessuno può conoscere la storia degli altri Cosa è successo? Cosa è successo? Poi ho capito che L'amore Può nascere in un istante Ho capito che Diciamo mi sono Immedesimata Nelle persone che non hanno potuto avere dei figli Nel senso che Io l'ho amato subito Questo bambino Cioè io nel momento in cui l'ho raccolto Io già l'ho amato E' proprio così Cioè Ho pianto E Penso che me lo E' una cosa che io Mi porterò dietro Per tutta la vita Cioè E' una sensazione molto forte Di protezione Nei confronti del bambino Proprio di protezione Ricordiamo insomma Che cosa è accaduto Sabina Qualche settimana fa Entra nel bagno In uno dei bagni del Cityper E trova questo Fangottino Per terra Che poi in realtà E' un bambino Scatta il sentimento umano Scatta il sentimento materno E di nonna Lo prende Lo avvolge in una coperta Lo porta negli uffici Della dirigenza Cityper E da qui poi parte tutto l'iter Che voi già conoscete Se avete seguito un po' la vicenda Anche sui Tg regionali e nazionali Cioè Arrivano i carabinieri Arriva l'ambulanza I medici E chi più ne ha Più ne metta Ci vuoi raccontare adesso tu Io l'ho detto in poche parole Allora Tu entri in questo bagno Perché io già immagino la scena E vedi Sto batuffolo Sto a terra Non è proprio andata così Nel senso che io Stavo lavorando E sono stata avvisata Della presenza di un bambino Pensavo che era un bambino Che si era smarrito Inizialmente Pensavo che era un bambino Di 9-10 anni Non pensavo che era un neonato E poi Quando sono arrivata All'ingresso Del centro commerciale Ho visto la cliente Che aveva due bambini Questa signora Quindi la signora Era anche impossibilitata A raccogliere il bambino E occuparsene La signora Ha detto che si trattava Di un neonato E quindi io In quel momento Nella mia mente È scattata una molla Quindi io non ho ascoltato Più nessuno Io mi sono messa a correre Vazzi si vede anche Dalle telecamere Mi sono messa a correre E sono arrivata subito Nei bagni pubblici Però inizialmente Io mi aspettavo Di trovare una carrozzina Pensavo che era qualcuno Che aveva dimenticato Non un bambino Che era stato messo lì Di proposito E poi ho chiesto La signora ha detto No è nel bagno numero uno E insieme alla mia collega Che era dietro di me Abbiamo aperto il bagno E insomma L'ho trovato a terra Sono stati attimi Diciamo di Io tremavo praticamente Perché non riuscivo a realizzare Pensavo che non era possibile E poi la collega Cioè io sono molto istintiva Subito ho detto Vai immediatamente a chiamare il 118 Perché ho pensato Che poteva avere problemi Di salute Poi l'ho osservato Attendamente Ho visto che il bambino Mi sembrava che stava bene Che respirava bene E mi sono piegata Per non farlo male Perché praticamente Lo spazio è pochissimo Tra la parete e il water C'è poco spazio E quindi L'ho raccolto col braccio E ho cercato di proteggerlo Alla meglio Sempre piangendo Perché io sono molto sensibile Lui piangeva Il bambino piangeva Il bambino no Il bambino non ha mai pianto E poi sono arrivata all'ingresso E chiesto aiuto Mi hanno dato un telo grande Perché era molto freddo il bambino Era freddo Dietro la schiena Era freddissimo Era nudo Quindi comunque Poi con queste temperature Di quest'anno Non è che fa sto caldo E poi L'ho portato in ufficio Tremando E mi hanno dato una sedia E poi Gli altri si sono occupati Di avvisare I carabinieri E tutto quanto Perché io comunque Non l'ho lasciato Nemmeno un millesimo Cioè io comunque L'ho tenuto stretto Dato che ho visto Che comunque Non piangeva E insomma L'ho accarezzato Ho cercato di dargli Dell'affetto In modo mio Hai scattato La madre che è in te Sì 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 No È una cosa proprio È una cosa bellissima L'hanno chiamato Antonio Adesso sta bene Sì 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 Adesso sta bene E si occupano lì Il personale È attentissimo Insomma Si sono tutti affezionati a lui E c'è stata molta solidarietà Anche dalla popolazione Di Lauria Di Lago Negro So che insomma Mi è stato detto Che gli hanno fatto Tanti regali Insomma È protetto Il bambino Sicuramente Andrà nelle mani Di gente Che lo vorrà bene Di persone Che magari Sono state più sfortunate Di me Che non hanno potuto Avere figli E di questo Sono contenta Sono sicura Che chi è che si occuperà Dell'affidamento Sceglierà la famiglia migliore Sabina Ecco Non dobbiamo giudicare Hai ragione Poi ognuno ha la sua idea A tale proposito Ma che idea ti sei fatto tu Di questa mamma Una mamma disperata Una mamma Così Che tanto mamma non è Ci avrà un'opinione tua Però Non sappiamo com'è la storia Cioè Questo è il problema Cioè Non riesco a giudicare Perché non so in effetti Cosa è successo veramente Può essere anche Che gli è stato tolto Questo bambino Cioè Noi non lo sappiamo Quindi Cioè Io non Non mi posso permettere Sicuramente Io ho lottato tanto Quando è nato Mio nipote Perché Quando ho capito Che c'era questa vita E ho lottato Affinché Insomma Andasse tutto bene Senti Che augurio fai ad Antonio? Io gli auguro Di vivere una vita felice In una famiglia Diciamo che Soprattutto Gli dia Tanto affetto Sicuramente Sarà così Perché Chi è che non ha un figlio Si affeziona Io mi sono affezionato In un secondo Quindi Penso che è così Che hanno detto a casa tua Che già noi hai visto Emotivamente coinvolta Al mille per mille Sì Tutta la famiglia Mi ha detto la stessa cosa Che tu l'hai trovata E tu te lo devi tenere Però purtroppo Non si può Io l'avrei voluto Portare a casa Questa sensazione L'ha avvertita anche La signora del 118 Che ho incontrato L'altro giorno E mi ha detto Che si è accorta Che io in effetti Non lo volevo lasciare Il bambino E tutta la mia famiglia E anche mia sorella Che conosci Che abita a Perugia Mi ha telefonato Piangente Ha detto Guarda Ce lo dobbiamo tenere noi Questo bambino Lo dobbiamo crescere noi Però purtroppo Non è possibile Ma nemmeno per l'età Non è proprio Combatibile la cosa Che dobbiamo fare Io me lo porto Penso che me lo porterò Dentro per sempre Sì no Ma è così Pino Sabina Da quel giorno Sabina Rossi Com'è cambiata È cambiata Sicuramente In meglio Penso che Bisogna aiutare Tutte queste famiglie Tutte queste persone Che hanno bisogno Penso che Bisognerebbe fare di più Anche per Diciamo Per diffondere Il fatto Che comunque Adesso I bambini Sono tutelati Cioè Si possono portare All'ospedale Nell'anonimato Non c'è bisogno Di lasciarli a terra Perché Perché L'ospedale Li può accogliere E non si sa Di chi è Cioè Si può fare Si può fare Adesso Cosa che una volta Non esisteva Però adesso Si può fare Quindi io Il mio consiglio personale È di non abortire Assolutamente E di far nascere Questo bambino In ospedale Sabina Un'ultima Un'ultima domanda Che augurio fai Allora Che augurio fai Adesso ai laureoti È un'estate Balorde È un'estate Strana Però Tu l'hai vissuta Sarà forse La più bella estate Della tua vita La ricorderai Anche quando sarai Avanti con l'età Con l'età Credo io Che estate fai Ai tuoi concittadini E a coloro Che stanno seguendo Lucania TV E a Panghino Frisco Io Auguro Un'estate Migliore Innanzitutto Dal punto di vista Meteorologico Perché non è andata Tanto bene Mi auguro di migliorare Un po' in tutto Perché insomma Abbiamo tanti problemi Soprattutto a livello lavorativo I giovani devono andare via Perché non c'è lavoro E quindi Spero che ci sia Un incremento E un aiuto Da parte anche Delle autorità Della regione basilicata Perché comunque qua Siamo messi molto male Siamo messi male E bisogna darsi da fare Un po' tutti Bisogna essere Diciamo Uniti Più uniti In questa cittadina Spesso Siamo disgregati Ognuno Pensa a se stesso Invece bisogna Pensare Un po' a tutta la comunità E speriamo Che esce il sole Che sarebbe ora Siamo quasi Stiamo registrando Che è la fine di luglio Senti Sabina Velocissimamente Perché tu devi tornare Al lavoro Immagina la scena Tra dieci anni Tu sei avanti Con gli anni Ma sei giovane ancora Iata a te Bussola la porta E entra questo Pizzi guagnone Dieci anni E ti dice Ma tu sei la signora Che dieci anni fa Carramba che sorpresa Ci pensi qualche volta Dile la verità Sempre Ci penso sempre Mi emoziono E io spero che sia così Anche se Forse è una forma egoistica Non lo so Però io mi auguro Che lui Mi venga a cercare Non lo so perché Però è così Lo voglio vedere Quando sarà grande Voglio vedere Com'è andata la sua vita Con queste bellissime parole Con questo augurio Che ti facciamo veramente Sabina Che tra poco Si mette a chiange Chiudiamola qua Ti ringrazio Sei stata gentilissima Grazie a voi Che ci avete seguito Anche questa volta Tu ne hai bisogno Fa caldo Nella città mia fa caldo Con lei che balla caldo Tanto Quanto Un forno caldo È caldo Ma me la canto È caldo Come il tuo impianto caldo Nella città mia fa caldo Caldo Fa caldo Nella città mia fa caldo Con lei che balla caldo Tanta città mia fa caldo Tanta città mia fa caldo